E' stata seguita oggi pomeriggio l'autopsia sul corpo di Marisa Leo, uccisa mercoledì scorso nel Trapanese dall'ex convivente Angelo Reina che poi si è tolto la vita. L'esame otoptico si è svolto all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Parerimo dove la salma era stata trasferita sabato scorso dal cimitero di Marsala. Ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire sull'omicidio e alcune risposte potrebbero arrivare proprio dall'esame eseguito oggi. L'intervento chirurgico per una occlusione intestinale subito l'8 agosto scorso è perfettamente riuscito ma preoccupare al momento i medici dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila il tumore al colon in uno stato avanzato che ha fatto peggiorare le condizioni generali del boss Matteo Messina Denaro. Per questo da una settimana il capo mafia nella cella del reparto per detenuti. L'aggravarsi delle sue condizioni di salute rende molto complessa la gestione della vicenda da parte di sanitari, vertici e istituzioni competenti che sono in contatto continuo. Grave episodio di microcriminalità stamattina a Favara dove un anziano di 83 anni è stato legato, picchiato e selvaggiamente aggredito da dei delinquenti, sicuramente più di uno, che sono riusciti ad avere accesso all'interno della sua casa fingendosi tecnici inviati per risolvere un guasto alla condotta idrica. Una volta avuto accesso in casa per l'uomo è cominciato un vero e proprio incubo fatto di botte e minacce con una pistola. L'episodio è avvenuto di prima mattina incontrata a Terriforti a metà tra Favara ed Agrigento. Al termine del RAI dei malviventi si sono impossessati dell'auto dell'anziano, una Fiat Panda che era parcheggiata dinanzi i casi ed alcuni effetti personali del cellulare e di poco altro. L'uomo, una volta soccorso, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove attualmente si trova in stato di shock per curare le numerose ferite subite a seguito del pestaggio. Dieci barchini con a bordo e 364 migranti sono stati soccorsi a largo di Lampedusa dalle moto vedette della Guardia di Finanza e dalla nave ONG Sea Punk 1 salgono a 24 dalla mezzanotte agli approdi sulla maggiore delle isole delle Pelagie con complessive 966 persone. L'ultimo sbarco ha portato sull'isola 24 tunisini rintrasciate dalle fiamme gialle sulla strada di Ponente. Prima le moto vedette avevano soccorso e imbarcazioni tutte salpate dalla Tunisia con a bordo da 29 a 44 tra tunisini, etiopi, sudanesi, somali, ivoriani. La nave ONG Sea Punk 1 ha sbarcato al molo commerciale 38 ritrei e sudanesi. Tutti dopo i triaci sanitari sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola. Suona in programma domani alle 16 nella chiesa madre di Santa Margherita di Belice, funerale di Benito Milione, il cameriere di 34 anni morto in ospedale a Palermo dopo 40 giorni dall'incidente nel quale era stato coinvolto lungo la provinciale Partanna Selinunte. Una storia che ha commosso l'intera comunità anche per la decisione dei familiari di Benito di donare i suoi organi. Sono stati spiantati in particolare cuore, fegato e reni che permetteranno ad altre persone di poter migliorare la propria condizione di vita. Si chiama Silvana Occhino, a 67 anni, una donna di Palermo che si è rivolta al sindaco di Menfi Vito Clemente per ritrovare la mamma biologica che dopo la nascita la diede in adozione. La signora Silvana sa per certo che la madre naturale fosse originaria di Menfi. In una lettera aperta la signora Occhino dice di avere bisogno di conoscere la mamma, di abbracciarla, di sapere se ha avuto fratelli o sorelle. Sono 229 tra dirigenti medici e comparto dipendenti dell'ASPE di Trapani assunti a tempo indeterminato che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione. In particolare sono 207 dipendenti del comparto nei ruoli sanitari, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale e 22 dirigenti medici, in particolare un dirigente biologo, un dirigente farmacista, 12 psicologi, un medico di chirurgia plastica, due medici ginecologi ed ostetrici, due nefrologi, un medico di otorinolaringoiatria, un fisiatra e un medico di medicina legale.